Andrea Capobianco, una delle presenze illustri non solo del Clinic ma anche di questa giornata importante. Andrea, affinità tra basket e calcio a 5? La prima affinità secondo me è che a giocare sono delle persone e quindi l'importanza delle relazioni che abbiamo noi allenatori con i giocatori, con la società e con tutti. Questa assolutamente è una cosa per tutti gli sport, logicamente. Poi ci sono le affinità perché la Palacanestro è un sport di situazione e anche il calcio a 5 è uno sport di situazione. La Palacanestro è un gioco d'iniziativa e anche il calcio a 5 è un gioco d'iniziativa. Tutti e due gli sport secondo me si basano sulla capacità di autonomia dei giocatori, quindi la capacità di lettura e tutti e due gli sport si basano su un concetto molto importante che è il valore della responsabilità individuale all'interno di una squadra. Poi ci saranno cose diverse a partire dai regolamenti. Il calcio a 5 si può tornare dietro, la palla può tornare in zona difensiva quando è in zona d'attacco. Nel mese nella Palacanestro questo non può succedere, però sicuramente ci sono tante affinità. Stiamo attraversando una fase particolare dopo il lockdown, speriamo non debbano esserci altri blocchi. Come dicevamo, se ricordi durante i collegamenti Skype di Molise Sport, speriamo che si possa tornare a parlare e a vederci negli occhi. Questo sta accadendo. Sì, speriamo appunto di superare questo momento veramente duro. Io penso che gli italiani in generale sono stati veramente molto bravi a giocare la partita nel periodo durissimo del lockdown. Però la partita non è finita. E come nello sport le partite finiscono quando suona il tempo, io penso, e si possono perdere negli ultimi minuti, io penso che noi dobbiamo essere bravi oggi a giocare con la stessa attenzione, con lo stesso senso di responsabilità che abbiamo avuto in passato. Perché la partita non è finita e la dobbiamo vincere il prima possibile. Per vincere il prima possibile dobbiamo veramente essere responsabili di ciò che facciamo tutti quanti, di accettare le regole che ci vengono date, di rispettarle. Perché chi ci dà le regole sono persone che hanno un livello, che sono specialisti proprio di questo. Quindi noi dobbiamo assolutamente ascoltare e cercare di rispettare. Nessuno è tuttologo. C'è chi ne sa più di noi, ascoltiamolo. Chiudo con un'altra affinità che riguarda queste due discipline nella nostra regione. Passata stagione, primo campionato di A2 per il circolo La Nebbia Cus Molise, in questa stagione primo campionato di A1 per la molisana Magnolia Campobasso. Tu conosci bene Mimmo Sabatelli, le giocatrici e conosci bene anche lo staff societario. Secondo te cosa devono aspettarsi i sostenitori dei fiori d'acciaio? Ma prima cosa devo fare i complimenti a queste due realtà veramente importanti del Molise. realtà che portano in alto il nome del Molise, realtà che veramente possono essere un esempio. Quindi assolutamente faccio i complimenti. Per quanto riguarda la Magnolia, è il primo anno. L'esperienza non si compra, ma si riesce ad avere grazie appunto alla pratica. Quindi respirare già l'aria di A1, A1 è il massimo campionato italiano. Respirare già con le giocatrici che già hanno giocato questo campionato è un aspetto molto importante. Bisogna avere pazienza. Nei momenti difficili bisogna compattarsi e unirsi. Non bisogna mai abbandonare mentalmente la barca, ma anzi bisogna essere ancora più collaborativi. E siccome parlo di persone di cui ho una schima incredibile, perché so quello che fanno, io sono molto fiducioso per questa squadra e per il futuro appunto della palacanestro femminile qui a Campobasso. Perché secondo me veramente si faranno cose eccezionali. Grazie. Grazie. Grazie.